Arriva la nuova stretta sui monopattini, alla Camera e alle ultime battute il nuovo decreto infrastrutture che tra le novità prevede anche nuove regole per l'utilizzo dei monopattini. Il giro di vite sui monopattini arriva all'ultima curva più scarico di quello che si poteva prevedere all'inizio. Alla Camera è stato discusso in questi giorni il decreto infrastrutture che prevede molte norme sui trasporti ed anche regole più severe sull'uso dei monopattini elettrici. Tra queste c'è quella del divieto di parcheggio sui marciapiedi e dunque la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 km orari e confisca del mezzo nel caso di modifiche che aumentino le prestazioni. Non è passata invece l'estensione dell'uso del casco che rimane limitato a 14 anni come prevedono ora le attuali norme sperimentali. I popolarissimi mezzi a due ruote dovranno inoltre avere le frecce e la luce di stop posteriore. Regole che per il momento sembrano mettere d'accordo la maggior parte dei cittadini. La stretta è necessaria, sinceramente anche il casco secondo me, perché è a fine 14 anni ma ho visto gente che comunque va sui marciapiedi di continuo e sinceramente ci vorrebbe un pochino più, secondo me è un pochino più servire le norme. A me è giusto perché molti vanno molto tutto sparato che camminano anche i 35 è una velocità un po' pericolosa se caschi quindi ti fai degli infortuni e poi molti sono spericolati, fanno i zigozaghi in mezzo alla gente insomma. Secondo lei non era opportuno forse introdurre l'obbligatorietà del casco per tutti? Ridotto alla velocità quindi si può anche evitarlo, penso. Mi sembrano, le cose che mi ha detto mi sembrano più che giuste, si vedono monopattini sfrecciare a tutta velocità, una regola ci vuole insomma, il casco è più che opportuno, i monopattini sono anche un po' più pericolosi, quanti chilometri rari in un centro così sono anche troppi, lei pensi a farli in bicicletta? Penso che sia giusto limitare comunque la velocità oraria perché sono degli oggetti dai comunque abbastanza pericolosi e purtroppo ci sono stati anche degli incidenti, ho sentito qualche notizia, come per i ciclisti così ci sono delle regole, è giusto che ci siano delle regole anche per questo due ruote. Giustamente se ti fai male, anche a 60 anni se uno vuole giustamente fare con i monopattini, guidare, il casco ci serve a tutte le età. Penso che sia assolutamente giusto in quanto vedo spesso e volentieri persone che vanno in due su questi monopattini, divieti, vanno parecchio veloce, casco assolutamente, assicurazione penso che sia giusto, adesso l'età, quello si può valutare e ragionarci sopra però una stretta bisogna darla.